Salve, sono Tullio Di Primio, direzione controllo qualità della De Cecco, qui siamo a Fara San Martino, proprio ai piedi della montagna, dove c'è lo stabilimento storico della De Cecco. Qui produciamo le paste e imbottigliamo olio extravergine di oliva. La pasta di Cecco è rimasta invariata, portando avanti la tradizione che dal 1886, diciamo, continua, nonostante tutti i progressi della tecnologia. Per la materia prima, noi selezioniamo i migliori grani che riusciamo a reperire in tutto il mondo. Noi dobbiamo, diciamo, far sì che un blend di tipologie diverse di grani, chi porta colore, chi porta sapore, chi porta consistenza, eccetera, poi alla fine dia quel prodotto finito che noi vogliamo. Prima di acquistare una partita, naturalmente noi controlliamo il tutto, abbiamo un laboratorio dove lavorano 20 persone, facciamo centinaia di analisi al giorno, quindi migliaia all'anno. Tutto viene monitorato, analizzato, niente viene lasciato al caso. La materia prima deve avere proteine e qualità del glutine. Questo è un parametro certificato e quindi prima di acquistare un grano dobbiamo fare queste verifiche qui. Tenete conto che la materia prima è importantissima, però anche tutte le altre fasi del processo contribuiscono. Se io ho una materia prima buona, però dopo la maltratto, cioè estraggo il 75%, essico alta temperatura, impasto con acqua calda, poi il prodotto finito non è buono come quello che vogliamo noi. Quindi diciamo che la materia prima influisce, ma influisce anche tutto il processo produttivo. Diciamo che una peculiarità del processo dei cecchi è quella di estrarre il cuore del chicco del grano. Invece di aver reso il 75% come hanno i normali mulini a duro che vendono poi la semola, noi per il nostro uso e consumo estraiamo soltanto il 65-66% di semola da un chicco. Perché prendiamo solo la parte centrale, la semola a spigolo vivo duro, quello diciamo grande, a granometria grossa, mentre scartiamo le parti meno nobili, che hanno pure un contenuto proteico alto, per esempio i semolini, le farinette, ma non è quella la qualità che vogliamo noi. Quindi noi, consci della difficoltà di impastare una semola a granola grossa, però abbiamo fatto questa scelta perché poi ci sono dei vantaggi sul risultato finale. Quindi qualità del grano, rese basse, granometria grossa, poi noi impastiamo con acqua fredda, come esce dalla sorgente, che normalmente esce intorno a 12 gradi, però noi abbiamo certificato questo valore che non deve superare 15 gradi, mentre tutti i pastifici per accelerare le velocità di produzione scaldano l'acqua a 40 gradi, così, per velocizzare appunto questa operazione. Dopo l'impasto in acqua fredda, noi trafiliamo tutti i formati di pasta e usiamo da sempre le trafile in bronzo, che danno, diciamo, una rugosità caratteristica alla pasta e consentono la cattura del condimento, rimane, e dà un bel colore, diciamo, giallo ambrato chiaro, che non è, diciamo, scuro né troppo sbiancato, un colore giusto, simile proprio alla semola in uscita dal mulino. Una caratteristica peculiare del processo de cecco è appunto l'essiccamento a bassa temperatura. L'essiccamento a bassa temperatura fa sì, non superando mai 64-63 gradi, diciamo, non sia danneggiamento termico dell'impasto. Il consumatore può verificare già dal colore la diversità di una pasta essiccata a bassa temperatura rispetto a una essiccata a alta temperatura. Il colore della nostra pasta è simile alla semola prodotta, quel giallo ambrato chiaro, molto chiaro, mentre una pasta essiccata a alta temperatura purtroppo per le reazioni che avvengono in fase di essiccamento si imbrunisce, diventa rossiccia o bruna o grigia, come potete vedere. Poi la trafilatura al bronzo, passandoci le dita sopra si sente la rugosità, anche se minima, mentre la trafilatura alla teflon è una pasta molto liscia, tipo plastificata.